All'azione cattolica italiana Papa Francesco ha detto sabato mattina che le parrocchie, specialmente quelle segnate da stanchezze e chiusure, hanno bisogno del vostro entusiasmo apostolico, della vostra piena disponibilità, del vostro servizio creativo. Si tratta di assumere il dinamismo missionario per arrivare a tutti, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e dimenticate della popolazione. Tre gli obiettivi indicati dal Papa per l'apostolato cristiano, rimanere in Gesù, andare ai confini, vivere la gioia dell'appartenenza cristiana. Con questo atteggiamento si evita la tentazione della quiete, che non ha niente a che fare con rimanere in Gesù, la tentazione della chiusura e dell'intimismo e la tentazione della serietà formale. Eviterete, ha concluso, di portare avanti una vita più simile a statue da museo, che ha persone chiamate da Gesù a vivere e diffondere la gioia del Vangelo.